C'è tanta incredulità nel mondo degli sportivi della rampicata in Valle Camonica per la morte improvvisa di Gianluca Gatti, da tutto il soprannominato Gatto sia per il cognome che per la bravura eccellente nel salire, leggero e veloce, su ogni tipo di falesia. Questa domenica mentre stava effettuando un'esercitazione con amici e allievi nella zona del salto degli sposi al passo della Presolana, sopra la forra del torrente Dezzo, all'improvviso accusato un malore, è stravazzato a terra e non si è più ripreso. Nel gruppo c'era anche un medico che è immediatamente iniziato l'operazione di rianimazione mentre sul posto gli uomini del soccorso alpino della sesta delegazione aerobica con i vigili del fuoco di Clusone sono intervenuti dopo l'allarme a 112 e da Brescia è giunto l'elicottero del 118 che aveva rincellato al suolo il team sanitario. Gianluca è stato trattato sul posto quindi trasferito a bordo dell'elicottero e portato in volo al civile di Brescia ma non si è più ripreso. Nella giornata di lunedì gli amici e gli appassionati di rampicata si sono stetti attorno alla famiglia, alla compagna Silvia e al figlio Nicolò. Da qualche tempo con l'amico Danny Shamsiri aveva creato una società sportiva direttantistica affiliata alla Federazione Italiana Arrampicata Sportiva che al Palavibi di Piamborno aveva dato vita al progetto Mano Piede. Dopo l'autopsia fissata al civile per questo martedì 12 luglio la salma potrà fare rientro a Piamborno dove al palazzetto dello sport verrà allestita la camera ardente per l'ultimo saluto al gatto delle falesie.